Grande partecipazione degli studenti sabato mattina nell'area dei Molini Meridionali Marzoli a Torre del Greco per l'iniziativa del Forum dei Giovani Futuri in Cerca 3.0 Orientamento Universitario Alternativo. L'iniziativa, aggiunta alla terza edizione e rivolta a tutti gli studenti delle quinte superiori della città, è promossa in collaborazione con Stecca. L'intento è quello di offrire ai giovani del territorio spunti di riflessione per il proprio progetto di vita e maggiore consapevolezza sull'importante scelta che si troveranno ad intraprendere da qui a pochi mesi. Fantastico vedere oggi circa 500 persone che hanno partecipato all'evento Futuri in Cerca. Futuri in Cerca ormai è tradizione per il Forum dei Giovani. Nasce con l'idea di aiutare i ragazzi giovani maturandi che si apprestano a scegliere la vita che devono fare al di fuori dell'attività scolastica attraverso l'orientamento universitario e non solo quello. Infatti oltre ad avere circa 35 stand dove i giovani universitari cercano di far capire cosa si fa all'università e quali sono gli indirizzi. Ho anche dei salotti dove le attività sono alternative all'orientamento universitario. Tendo a ringraziare tutto il lavoro che c'è stato dietro perché davvero ci sono stati tanti tanti sacrifici da parte del Forum dei Giovani, del Consiglio del Forum dei Giovani ma in particolar modo ringrazio anche le scuole per la propensione a partecipare a questo evento, per l'aiuto che ci hanno dato anche nel coinvolgere i ragazzi. In particolar modo ringrazio il Pantaleo, ringrazio il Digni, tutte le scuole del territorio e ringrazio i professori che ci hanno aiutato anche nello svolgimento dell'evento.